Si diceva che lui sarebbe stato più vivo da morto che da vivo, perciò questa manifestazione stasera lo dimostra. Sono contenta di essere un po' la portavoce di questa ricorrenza. Oggi è bellissimo essere qui tutti riuniti per fregare un'anima bella, fulgida, che ci aiuta di lasciare, che si china verso di noi come faceva quando era in vita per sollevarci da tutte le miserie umane, dalle pene, dalle angosce. Tutti gli si rivolgevano, lui era un messaggio anziano, malato, ma si trascurava per dedicarsi agli altri. Infatti il suo proverbio era io ho quel che ho donato. Questo è il messaggio, la carità in persona. Non faceva solo miracoli così come apparizioni di oggetti, sparizioni. Non era una po' miracolistica, però con i suoi esperimenti famosi vuole dimostrare che esiste lo spirito intelligente. E da là tutti ci seguono i nostri cari defunti e gli angeli che ci accompagneranno per tutta la vita. Gustavo Arano. Gustavo Arano è sempre con noi e più ne parliamo, più è vivo. Grazie a tutti.